Ternana Taranto è finita con l'arbitro Fiorentino Materassi assediato negli spogliatoi e con gravi incidenti fuori dal campo tra tifosi e forza pubblica. Uno a uno il risultato finale con il pareggio conseguito a minuto dal termine dai pugliesi su calcio di rigore. E' stato questo l'episodio che ha provocato la reazione della folla. Alcuni scalmanati hanno tentato l'invasione di campo ma sono stati prontamente bloccati dagli agenti. Un finale burrascoso quindi per un incontro scialbo e che poco ha detto sul piano tecnico. Le formazioni di Olivieri e Mazzetti dovevano fare punti per salire dalle posizioni calde della classifica ma evidentemente entrambe hanno pensato innanzitutto a non prenderle. Erano andati in vantaggio gli Umbri al 34esimo del primo tempo con questa rete di Ascagni che batteva con un pallonetto Petrovic. Rientrava nella Ternana Passalacqua in certo sino all'ultimo e proprio alla punta rosso verde nella ripresa si sono presentate due buone occasioni per raddoppiare sciupate però a lato. Al 44esimo il rigore contestato. Viaggini dentro l'area contrastava Galli. L'arbitro decretava la massima punizione che Panizza, un ex, trasformava siglando il pareggio. C'era a questo punto la tentata invasione di campo e il gioco restava fermo per 5 minuti. Poi gli incidenti fuori dello stadio e il prolungato assedio all'arbitro.